Con teatro di vetro c'è un emblema con fiori e spade È troppo sporco per guardarsi all'interno Eh raga c'è scritto Eve Eh dai ce la ricordiamo Evelyn Sì esatto Va bene Eh detto questo Però Io penso che ora si torni nel villaggio E abbiamo ammazzato la Dimitrescu Quindi o abbiamo finito il gioco Oppure alla fine gli altri fratelli ce li dobbiamo scopare Per me ci dobbiamo scopare tutta la famiglia Esatto Perché Io credevo che il castello fosse la parte finale del gioco invece l'inizio Invece no Con l'inizio però te lo scoppi subito Beh questo volendo Può essere una cosa positiva Esatto però Ah questa è una stanza di salvataggio Molto bene Ma dov'è? Più avanti Io sono ancora dentro Sì 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 più avanti più avanti Ho finito l'oggetto che mi era stato richiesto Consegnano alla casa col gomignolo rosso Lo troverai dopo aver attraversato le caverne e le ruine Vedi Quindi mi sa che c'è tutta una parte esterna del caffè Cosa c'è sotto il mobile? Sì scusi arugginiti Salviamo ovviamente Ok Qua dentro c'è ancora qualcosa? No Ho preso tutto Però questa è una notizia pessima Sai perché? Cosa è una notizia pessima? Vuol dire che tornano i laicani in mezzo al cazzo Eh mi sta di sì Effettivamente sì E come fai a cambiare le cose accesso rapido? All'accesso rapido sai Levar la mine e mettere il fucile perché Aspetta faccio da fare così Eh te lo dice C'è proprio il tasto accesso rapido Ah scelta rapida sì Ok A posto Ce lo fa Niente qua c'è l'ennesimo Pensavo magari con la carrucola Usiamo il pozzo No Invece no All'aspetta che io quando riesco a capire Che cazzo dobbiamo fare Aspetta Di qua siamo usciti Quindi niente Di qua c'è la porta per salvare Qua c'è un ponte sospeso Possiamo sparare alle funi Mi sa di no Prova Proviamo No mi sa di no 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 Niente Non andare da questa porta Vito La porta quella È un problema Beppe è sbarrata Allora È sbarrata ma spariamo a Lucchetto Esatto Bene Sai quante porte con Lucchetto ci si è lasciato in un villaggio Beppe Davvero Ma arriviamo la pistola Già I piragna no Adesso i piragna Ah si sono qua i piragna E col coltello Io direi che i piragna col coltello Pesce Voglio pigliare questi pesci di merda Bene Abbiamo appena finito di dire che alla fine non devi cacciare Invece si mi sta Trofeo cacciatore Quindi mi sta che Aspetta Aspetta Accoglili La carne È la vecchia È permesso C'è la città di merda C'è la città di merda C'è la città di merda In la vita In la morte In la morte In la morte In la morte Hei Ricordi di me? Mi sono quasi morto Con questo castello Dimmi Cosa sta succedendo Qui? Come si può essere quasi morto Che cazzo sta parlando No, a crema E ancora non ho trovato Rose Occhio Occhio Cosa ha la madre Miranda Ha 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 Sei troppo tardi Occhio Anche Anche troppo tardi Il figlio Sostrattereà La vita Per la vita Che tipo di Miancola È una bella domanda Riccardo Sono Cristo Questo Il figlio È una bella domanda Il figlio L'umbrella Il sembro dell'umbrella sotto Dove l'hai visto? Ok Cazzo Nei quattro casati sotto ci sembra l'embrella E' vero E' vero Anche sopra E comunque niente Quindi alla fine si ci dobbiamo battere le quattro casate Alla fine Però mi sa che adesso Auso Dimitrescu Possiamo forse mettere l'emblema Se c'è dato un emblema perché l'abbiamo battuta Intanto mi sono fottuto una chiave alata qua Ok Auso Dimitrescu Però l'emblema non ce l'ha dato Non ce l'ha dato Boh diciamo che appena li battiamo tutti Ti ricordi la porta che c'era nella casa del residente vol 1 Con i due emblemi per scendere giù Sì sì uguale Qua mi sa che hai quattro cosi per poi sbloccare Magari c'è C'è il simbolo dell'embrella e dietro sta torre Mi sa che lì da sotto ci potrebbero essere dei laboratori Non vorrei dire la cazzata Vabbè Stiamo facendo chiave alata qua Chiave alata vai Un simbolo con due ali ho capito Porco fammi fare Quindi bom perfettamente Quindi fondamentalmente La prima Dimitrescu è la prima boss E le altre Gli scagnozzi Le figlie praticamente Devo Sai cosa Devo rifletterci Su sta cosa Devo ancora decidere Se è una roba che mi piace o no Ok Cazzo qua c'è il simbolo dell'embrella di nuovo Dove? E' esci dalla porta Tira la leva dalla porta Nell'accento della piazza Luogo della cerimonia Eh sì Qua sotto ci saranno gli laboratori sicuro Aspetta aspetta Qua ci sono I quattro re di Dark Souls Aspetta un attimo Che fa che lag E niente Stiamo premendo Invece di andare avanti E tanto Per me Premiamo Ah no Interagisci Questo simbolo Mi ricorda qualcosa Ho capito La donna Ti ricordo No 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 Mi sa che è una roba Che dobbiamo trovare ancora Cioè Qua per me Si Si va alla fine Forse E anche perché altro Non possiamo fare Eh niente Va bene Andiamo di sotto Andiamo di sotto Andando qua Ci sono i soliti cristiani Dimmi Esplodiamo No 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 stavo ragionando Stai scendendo le scale No tu Si Prima sono andato A destra Andiamo a destra Si si Cosa c'è C'è una cassa Non lo so Adesso mi sta un po' più gasando Nel senso che Bomb Guardalo lì Lo vedo Lo vedo Chi c'è Ma non posso Ci far respirare Con sto Trattenere il respiro Ho ammazzato Un lycan Con il fucile di precisione Immagino che adesso Ne arriveranno Altre 25 Come minimo Allora Ma la tolgo Un trofeo Parentesi Ti sento Testa esplosa Secchiamoli Così non rompono Più il cazzo Comunque adesso Che i potenziamenti Delle pistole Gli ammazzo Più in fretta E tre colpi Intensi Ebbè Allora Minchia Quanta roba da guardare Da dove cazzo Allora andiamo prima Al ponte sospeso Tiriamolo giù Tanto è qua È qua attaccato Ah sì Che poi una sciorca No ma non possiamo tirarlo giù Serve qualcosa Ci serve La manovella Porco dio Boh Ok Crudo chimico Qua sotto Non possiamo andare Quindi Dai E niente Qua non possiamo andare Dal Ponte Lelatoio Cristiano morto Niente Destra Sinistra Qua c'è un sacco di roba Andiamo A destra La prima porta Che c'è destra Qua aperta C'è Va bene C'è un cazzo Scarte Arrugginiti Eh esatto Andiamo Dall'altra parte Vediamo che cazzo C'è qua dentro Cos'è C'è un cristiano Ciao Ma la sono cercata C'è da dire Questo Teste esplode Qua c'è una roba da prendere Da spattare Scappi di metallo Vabbè usciamo da qua La porta davanti Ma sono indubbiamente cercata E poi c'è la porta Poi c'è la porta di fronte Cazzi di metallo Poi c'è una porta di fronte Che tanto c'è Uno scrigno Che non abbiamo La chiave per aprirla E questo Perché aspetta Che chiave Eh non lo so Stavo chiamando Che chiave non mi piace Stemma di ferro non mi piace Allora Siamo tornati nel beneviento qua Siamo tornati Siamo tornati Sì 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 Quindi tutte le cose che dovevamo fare Lo possiamo fare Vedi 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 che pieno di cose da sparare Sì comunque esatto Eh esatto E noi che eravamo convinti Che Castel Dimitrescu Fosse la parte finale Invece Eh no Pornamane no Esatto Un idea l'abbiamo finito Questo è un enigma Altare È partito un video Mi sa Questo mangia Non è sicuro se è un valore Ma Cosa? Perché Hai la sua figlia Nella sua propria Scus Cosa? Cosa? Non scherzare Non scherzare Testa No raga no No Eh beh, spaccala allora Ma Cristo No Rose è... Non ti dicisci un'altra parola Questo è impossibile Questo non può essere La sua città è ancora inattente La sua potenza è davvero unica Chi potrebbe fare questo? La potrebbe essere salvato, you know Savato? Da questo? Sì, tu è vero? C'è una casa con una città di rosso sull'interno della città Per andare a trovare il ragazzo che vivi là E poi possiamo continuare la conversazione Questa è la sua città Tu non hai bisogno di credere le mie Ma hai delle opzioni migliori? La tua scuola Il cliente è sempre vero Allora c'è da comprare ma adesso c'è da comprare della roba vediamo dimitrescu cristallizzata ma guarda che vacca va bene c'è da prendere ma il pesce ma gli 800 non può essere mangiato crudo ingrediente comune io me lo tengo magari lo cuoci e c'è la parte da cuocere perché guarda 30 30 mila puoi ampliare di nuovo il bagaglio lo sto facendo perché poi succede come prima fucile poggia guance mirino telescopico che mi chiedevo fare saltare della minchia anche qua non abbiamo assolutamente l'oggetto che ci serve a meno che esatto che hai messo la testa di mia figlia orco ok 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 dobbiamo trovare i quattro pezzi di nostra figlia detto così allora qua a sinistra c'è una porta che si può aprire perché abbiamo la chiave però non sappiamo dove porta senti proviamo o vogliamo esplorarci prima di nuovo tutto io direi di parola l'obiettivo e abbiamo due obiettivi abbiamo il ponte elevatoio il canale incompleto e perché qua c'è una porta che ricollega mi sa al vigneto del castello dimitresco io l'aprirei senti simbolo con le quattro ali interagisci apre su questa chiave non va bene qui qua noi abbiamo le due ali non le quattro ali e no ma io l'aperta con la cosa alata si apre non è vero non lo fa a a quella di fronte aspetta 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 vediamo quella quella di lato esatto e ragione quella non si può aprire vediamo quella di lato niente le quattro ali non si possono aprire punto perché noi abbiamo le due ali sì poi stiamo solo tornare al villaggio ah andiamo torniamo al villaggio quindi secondo me che si è successo qua in sta chiesa pepe è successo mio dio che un computer portatile raga scusami eh è registrato da nh arrivo al sito nessun segno di etan winters o rosemary winters ingresso al villaggio sconti tra una serie di armi biologiche trovate tracce di etan winters posizione di rosemary base stabilita nella chiesa ruoli ispezione laboratorio analisi campioni della muffa ingresso nella fabbrica niente quindi c'è l'ambrella che gira tendenzialmente e l'ambrella dici? ma aspetta sì sì l'ambrella l'agente di Chris Redfield va bene no stavo guardando in basso e in alto vedere se c'era un rubino e infatti c'è un rubino e là l'affanculo non l'avevamo visto oggi prendiamola va bene quindi la chiesa ora è allora di fianco alla chiesa allora sei ali figurati sei ali di fianco alla chiesa c'è una chiave con stemma di ferro ok andiamo esatto no ho sbagliato chiave che porco ah ma dimmi sai cosa mi ricordo un po' la mappa che avevamo visto con Cesco le quattro zone mi sa che adesso se lo sbaglio la cosa sarà molto libera in che quattro zone poi vogliamo andare forse non lo so l'ho buttata lì secondo te perché nella mappa è tutto bianco ed è enorme sta parte qua da dove stiamo aprendo noi oh cazzo è enormissimo io aprirei ma tornare un attimo indietro perché per me ti va in una nuova zona vai da un nuovo fratello ma a me in realtà mi ha aperto un pollaio c'è la stemma di un pollo quindi non so è vero ok mi sono fatto dei viaggi perché è tutto bianco ci sono dei polli qua è un cimitero con dei polli ammazziamo dei polli ti dà la carne vedi qua ti prodotti di secchi raccogli pollo l'ingredienti consegna gli aduca ma perchè poi provoce un po' di ingredienti ah e quando gli ammazzi tutti scompare il segno del pollo io li ammazzati tutti e non c'è più più su un pollo ah boh va bene quindi questo è stata l'utilità di sto posto di pollo io mi facevo dei viaggi no minchia è tutto bianco no le zone ma il pollo va bene allora lì non ci interessa la casa di Luisa era crollata non mi interessa e invece qua sotto in basso vedi in basso a destra abbiamo delle delle zone rosse con un grimaldello vicino alla parte iniziale da dove sbucavi praticamente all'inizio eh vediamo un attimo dove minchia devo passare che è crollato Gesù Cristo eh vieni dai vieni che ci casiamo dove sei? non ho capito non ho proprio capito però va bene andiamo di qua perché lì è crollato eh no ma non devo andare di qua da andare dall'altra parte solo che c'è la carovana davanti non devo passare no esatto dobbiamo capire come fare ci deve essere una maniera perché la strada effettivamente sarebbe questa qua ma c'è la carovana esatto allora ehhhh dalla chiave no chiave cosa posso aprire attenzione qua c'è una chiave lo stema di ferro eh però c'è una porta rossa che non possiamo aprire proviamo io ci posso anche provare però vedi qua c'è una porta rossa che sarà bloccata dai esatto è bloccata e mi sa che ci potremmo ricongiungere a quel posto lì no no eh no aspetta esatto esatto mi sa che quando potremo aprire le quattro ali potremo tornare indieta potremo tornare indietro va bene quindi detto questo siccome non possiamo esplorare lì sotto momentaneamente dove straminchia dobbiamo andare eh è una bella domanda perché mi sa che la io ti dico te la butto lì ma mi sa che le porte che potevamo aprire e le cose esplorabili con questa chiave le abbiamo fatte tutte parlando in basso non possiamo andare dove c'è la chiave di ferro perché c'è la carovana no perché ti spiego i punti noi abbiamo i punti esclamativi dalle piattaforme che ci manca la roba da ficcarci dentro e va bene calice incompleto e piattaforma di pietra va bene poi abbiamo un ponte elevatoio che non possiamo abbassare perché ci manca da fare e poi abbiamo in basso questa porta meccanica che dobbiamo è importante ci possiamo andare perché la porta del quattro non ce l'abbiamo lui mi ha detto andate a essere del villaggio prima che cazzo ha detto quel piccio ha detto andate a essere del villaggio di mattoni ma poi non è a est aspetta andiamo a est ma parte che a est c'è la casa di eliza si si per carità allora andiamo verso la casa di eliza vediamo che succede attenzione una porta che prima era chiusa vicino al cimitero adesso è praticamente è tutta sfondata che ti faccio uno screenshot ah ok quindi dal pozzo esatto e lì c'era una porta che tu a me ricordavo chiusa adesso è sfondata ed effettivamente è la casa che prima io ho detto ma questa non ha il comignolo rosso ce l'ha di mattoni e invece mi sa che dobbiamo proprio andare qua ok allora piano piano io ti vorrei so ricordare non perché sono dei 10.01 quindi si si esprimiamo qua ancora un attimino no non solo per dire la terra forse forse niente vabbè 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 ancora rossa effettivamente per esempio dei rumori del cazzo per l'iso ah c'è c'è un via via dite sotto nel abbia ristorata vai vai sotto nel cammino di sotto c'è una c'è un cristallo diventa bene molto utile però abbiamo trovato un orsetto eh boh torniamo dal duca un attimo ascolta torniamo dal duca dov'è sto piccio però perché ci aveva detto di portare la carne dal duca scusami secondo te non lo so perché dice perché te la vendi eh ti dai ti dai dei soldi però capito ma dice non si può mangiare cruda ma può cuocere il duca eh esatto quello volevo capire però per adesso no però abbiamo dei problemi quindi allora o non abbiamo capito come si tira giù il ponte elevatoio e dobbiamo andare di là o non abbiamo tante altre alternative quindi io provo a tornare indietro dal ponte elevatoio e proviamo vediamo un attimo porco di me ti spacco il telefono eh no ma lì ma qua serve un aggeggio non abbiamo un cazzo c'è qualcosa che ci sfugge perché ci manca una ci manca chiaramente un aggeggio per fare tutte queste manovelle ci manca una manovella di merda il duca non la vende chiaramente perché poi c'è c'è una barchetta capito una barchetta si sotto basso il ponte poi c'è una barca che poi penso di essere dove cazzo vai allora aspetta un attimo dov'è il diario di Ethan note di Ethan il corpo di rosa è nei flaconi va bene il duca ha detto che c'è un modo per salvarla andare alla casa con il comignolo rosso punto allora torniamo dal villaggio non resta di cercare casa per casa ah ma vaffanculo è qua la casa con il comignolo rosso porco di me appena uscito dal duca ce l'hai lì però come ci arriviamo scusami è chiusa è chiusa dall'altro lato allora la casa con il comignolo rosso è questa subito attaccata alla vergine verriera come minca ci entriamo ah sai dove prima ti ho mandato la foto e entra nel piano di sotto sai che ti ho mandato la foto siamo entrati c'era l'ossetto puoi andare al piano di sopra puoi andare al piano di sopra puoi andare al piano di sopra dalla strada laterale vicino porco del di ci avevo messo il telefono eh non si può fa' stellate non si può guarda che ce l'avevo dietro al cazzo ce l'avevo dietro al cazzo è spessato